Questa edizione del Salone del Mobile stando a quello che abbiamo visto in queste prime due giornate L'affluenza è molta, che sicuramente è importante per il nostro settore, per l'economia e per la città Una delle principali novità è il sistema pentagramma disegnato da Pizzuc e Demma È un sistema molto, tra virgolette, semplice, come quindi di nostra vocazione Ma che racchiude al suo interno delle caratteristiche molto interessanti e innovative In più abbiamo presentato una nuova versione di Cosi, che è il nostro divano più di successo Disegnato da Francesco Rota per l'outdoor E abbiamo ampliato la collezione dei tavoli rock disegnati da Jean-Marie Massot Quest'anno al Salone abbiamo presentato le due collezioni dei fashion brand Roberto Cavalli e Gianfranco Ferré Il futuro per un Hero Group è completare il nostro portfoglio di offerta Quest'anno, tra l'altro, abbiamo fatto un esperimento fuori Salone alle 5 vie in via Cesare Correnti Abbiamo un allestimento fantastico, tra l'altro siamo stati segnalati nelle top 10 Ci auguriamo di arrivare nei primi posti, se non primo Anzi, vi invito ad andare a vederla alle 5 vie Quest'anno è un anno ricco di novità Ci presentiamo al Salone con due stand Uno stand dedicato alla collezione indoor e uno stand dedicato alla collezione outdoor Sicuramente di rilevanza la collezione Snake, che è una collezione molto sinuosa Diamo sempre di più verso delle forme contemporanee pulite Dando grosso valore a quello che sono i materiali di pregio della nostra azienda Per quanto riguarda la novità assoluta di quest'anno Abbiamo continuato, diciamo, a allargare la gamma d'offerta Con continue ricerche di tessuti, materiali, ananimi, legni naturalmente Per cui siamo molto molto soddisfatti Abbiamo un contenitore straordinario Dove si racchiude la tradizione di centinaia d'anni Dal nascimento all'arrivo ad oggi Crediamo molto nel discorso della continuità Questa edizione del Salone Mobile sta andando molto bene Fortunatamente abbiamo rivisto tutto il mondo, Oriente incluso Che l'anno scorso era quello che era mancato più di tutti La grande novità di quest'anno è la collaborazione con Francesco Rota Che ha disegnato un pezzo per noi Ma la novità più grande è la collaborazione a livello di direzione artistica Siamo sicuri che darà degli ottimi frutti a livello di immagine L'idea comune che abbiamo noi E che condividiamo con Francesco È quella di far tornare il metallo protagonista della nostra collezione Questa nuova edizione 2023 sta andando molto bene Abbiamo ripreso un filo interrotto nel migliore dei modi Le novità quest'anno sono diverse Abbiamo presentato questo tavolo rotondo con dell'onice retroilluminato Una lampada che simula la luna E diversi altri oggetti e pezzi che rendono l'ambiente molto molto caldo e molto familiare Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie a tutti